Il mostro dagli occhi spenti rapì la principessa Anna, nascondendosi nel bosco dalle mille luci. Poiché i sogni dei bambini accendevano le luci del bosco, il mostro fece un incantesimo e i bambini smisero di sognare e nel bosco pregna il muio. Una nuova luce bastava per sciogliere l'incantesimo e salvare la principessa Anna. Teddy, ho un'idea! Ma da tempo, ahimè, i bambini non sognavano più. Teddy, adesso accendiamo tutto. Ma Anna, cosa hai fatto? Grazie per la visione!